Come si riconosce un pneumatico invernale? Il pneumatico invernale? Dal punto di vista della normativa, così come è indicato dal codice della strada e dal circolare di attuazione, basta controllare che sulla spalla del pneumatico vengano riportate il codice M più S. Il codice M più S indica che quel pneumatico è stato omologato per la guida invernale e quindi sostituisce a tutti gli effetti di legge l'obbligo di portare catene a bordo. Ricordiamo che i pneumatici M più S, che sono chiamati tanto per intendersi i pneumatici invernali, devono essere montati preferibilmente se tutte e quattro le ruote, anche se il codice della strada permette il montaggio di soli due pneumatici. Ma ovviamente un aspetto di sicurezza ci deve far andare anche ben oltre la previsione di legge. Per quanto riguarda appunto il montaggio dei pneumatici, ricordiamo anche quella che è una particolarità, il contributo per lo smaltimento. Deve essere pagato solo nel caso in cui vengono acquistati nuovi pneumatici? Certo, è importante. La nostra questione oltre che nell'ambito dei contributi è vedere l'acquisto degli pneumatici come un vero e proprio investimento. Noi consideriamo proprio la possibilità che ogni anno vi sia questo obbligo vissuto dagli cittadini, anche se sappiamo di parlare in momenti complicati, come un investimento per sicurezza. Proprio come diceva il direttore, noi consigliamo lo pneumatico rispetto alla catena, anche se poi lo pneumatico con la sigla M più S, che sarebbe Mood and Snow, quindi fango e neve, è l'obbligo base. Quindi se uno vuole stare esattamente alle regole, basta che compri uno pneumatico di questo genere, ma lo deve vivere realmente come un investimento. Un pneumatico di questo genere preserva rispetto all'ambito della sicurezza. È una cosa che noi promuoviamo proprio per questa ragione. Vi sono altri soldi buttati in altre cose. In questi casi non si butta dei soldi, ma si investe su noi stessi.